Il potente infettivologo Massimo Galli, direttore del dipartimento di malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano, ha fatto la scoperta delle lontane Americhe, ha detto che a Milano i casi di coronavirus sono 5 o 6 volte di più di quelli ufficialmente accertati. Per fare una simile constatazione bisogna essere un potente infettivologo, bisogna avere tanti titoli di studio. Io queste cose le ho dette senza essere un infettivologo perché io sono Serafino Massoni, sono semplicemente l'autore di questa opera storico-mitologica, vedete la stippa del serpente, e lo vado dicendo da tantissimo tempio che forse siamo tutti infettati dal Covid-19, forse siamo tutti infettati, ma mica tutti quelli che siamo infettati si muore o si va in ospedale. Il Covid-19 si trova nell'atmosfera, si sposta con l'aria, si sposta con l'aria, va a soggiornare nei posti molto inquinati, come è molto inquinata la città di Wuhan in Cina, 10 milioni, 11 milioni di abitanti e la regione circostante sono 50-60 milioni di abitanti. Poi il vento ha spostato queste nuvole di coronavirus, le ha spostate a Occidente e loro sono andate a soggiornare nei posti loro più graditi, che sono i posti inquinati, la Valle Padana, in primis la Valle Padana, Lombardia, Pergamo, Veneto, Emilia-Romagna, sono le regioni più produttive sul piano dell'inquinamento, Germania, poi Spagna, poi adesso vanno negli Stati Uniti, magari poi andrà pure nel continente nero, eccetera. Allora, non ci voleva la laurea in infettivologia per dire che le persone infettate dal coronavirus sono molte, molte di più di quelle ufficialmente accertate. Mica è stato fatto l'accertamento su 60 milioni di abitanti, non è stato fatto, vero, vero, infettivologo Massimo Galli, bastava un po' di intuito per capirle queste cose. Probabilmente possiamo dire che presto l'umanità sarà tutta infettata dal coronavirus. E infettivologo, ma lo sappiamo tutti che dentro ogni essere umano ci sono, mi hanno detto, due chili di virus e batteri. E perché non dovrebbe esserci pure il Covid-19? Va bene? Eh, ci si deve convivere, ci si deve convivere, infettivologo. Hai fatto la grande scoperta dell'acqua calda, caro infettivologo. Ma io ti voglio bene, caro, sai, ti voglio tanto bene. Ok, cari amici, non so se ci siamo capiti. Casomai non ci fossimo capiti, fatemelo sapere, che io cercherò di spiegarmi meglio, va bene? A tutti i tanti cari saluti da Serafino Massoni.